Alba Area Gallery Buongiorno a tutti, sono Marti Nevevic, direttore dell'Accademia d'ABA e noi interveniamo, partecipiamo a questo evento, a questo festival per occasione uno l'ha già accennato appunto su Santina avremo inoltre all'Alba Gallery, l'Accademia dell'Accademia di Belle Arti di L'Alba, il Consenso di Sant'Agata 22, in inaugurazione il 10 marzo alle 18 con una mostra di fotografie dei nostri studenti del terzo anno curate dal professor Alberto Zanchetta che è decente della L'Alba nonché direttore del Mugior d'Arte di Lissone e parteciperemo, questo è un momento molto importante per noi dell'Accademia L'Alba ma penso anche per la città di Brescia avremo ospite Poliviero Toscani a inaugurazione dell'anno accademico il 14 marzo alle ore 11 dove è l'occasione con cui rivemo al fattore dell'artista la Laura Fondonoris e inoltre, per concludere, partecipiamo al Dipartimento di Grazie del Design Multimedia alla comunicazione del Proto Festival i ragazzi stanno organizzando questi legati libretti, eccetera questo è quello che L'Alba vuole per il tutto questo grazie grazie mille ricordo che poi L'Alba ha progettato tutta l'immagine coordinata dell'iniziativa che sta facendo veramente un lavoro straordinario compreso il marchio che abbiamo visto in ultima volta grazie grazie grazie